Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dell'Agrarian Skies Finalmente sono tornato su questo server Ieri purtroppo ragazzi non ho avuto tempo Come avete visto il video delle due dell'Agrarian non è uscito Infatti mi dispiace per questo, mi dispiace Comunque se avete notato il mio programma è un po' cambiato Ma lo scriverò anche cosa Se avete notato faccio alle due sempre l'Agrarian E la sera un video che mi pare E poi si riesco anche un terzo Ma se i giorni veramente ragazzi non ho il tempo Non c'ho tempo, dovrebbero essere vacanze Uno dovrebbe stare in vacanza e fare quello che cazzo gli pare Io non riesco manco a fare un cazzo di video di un quarto d'ora Vabbè sì, quarta d'ora, vabbè che ci stanno due ore di lavoro dietro Considerate ogni dieci minuti due ore di lavoro Quindi fate voi E comunque, tornando al gioco Cosa ho fatto negli scorsi video, cosa so per fare Allora, ho fatto tantissime quest, sto andando davanti con la storia Voglio finire il modpack, cioè alla fine l'obiettivo è finire il modpack Non devo fare stronzate, cagate, sbolazzare, pirulini Quindi Dovrei andare nel Nether a fare questa quest L'unica cosa è che per andare nel Nether mi serve L'Obsidiana L'Obsidiana, l'Obsidiana Il famosissimo italiano inglesciuto che ho inventato io ragazzi L'Obsidiana E però per farla ci serve della lava Allora, io potrei utilizzare man mano la lava di questi cosi bruttissimi Oppure, ancora meglio, potrei fare un sistema che produca più lava Ascoltate bene, produca più lava E ci permette, insomma, di automatizzare in qualche modo tanta lava E tanti tanti secchi, tanti capitano, insomma, atteso, no? Ok Deve ingrandire, quindi devo fare altri crucible Anche se questi quattro effettivamente potrebbero bastare Poi, poi oltre a questi Ci serve un sistema che li scaldi più velocemente E sinceramente io vorrei passare al fuoco E poi ci serve tantissima cobblestone Io non so se adesso con un item duct posso automatizzare Ma non credo proprio di no Quindi sono costretto a fare così a mano A prendere la cobblestone Vabbè, quello è un altro caso Ne parliamo poi Molto poi Allora, quello che mi serve subito è un piccone L'unica cosa è che io il mio piccone l'ho lasciato da qualche parte E l'ho perso Dove cazzo? Dov'è il mio piccone? Datemi il piccone Io non capisco perché, raga Ogni tanto in questa cazzo di serie mi sparisce la roba Dov'è il mio piccone? Mi hanno fregato il piccone Io non so Che cacchio faccio? Ma che cazzo? Allora, dato che il mio stronzissimo piccone è sparito, ragazzi Molto interessante Dato che Stavo smanettando quei picconi E non vi si pare che interessanti Sinceramente c'è anche, ad esempio, il silver piccone Minispeed 18 Ma c'ho tante durabili Che è un po' pochino, in effetti Il silver è velocissimo ma non dura un cazzo Ci sono vari, tantissimi tipi di picconi, ragazzi Anche lo shiny è carino Ma a me mi piace questo Io posso farci quello che vi pare, ragazzi Ma a me mi piace quello di Enderium È troppo fico Anche l'electrum, ragazzi Minispeed 19 Però c'ha 290 HP, capite? È uno schifo E io sinceramente, ripeto Otterrei per questo Minispeed 16 vita 880 È poco È poco Però non è male Cioè, rispetto al silver Il silver è l'80 Quest'altro che cos'è? L'electrum di 290 Proprio lo schifo Come faccio a fare però il piccone di Enderium? Mi serve l'Enderium Io non ho Ricordate l'Enderium che si fa con la polvere Con l'ender liquido Con il secchio E io invece, grazie alla tinker, ragazzi Posso farlo Nonostante non ho tutta quella roba Basta prendere un po' di shiny Un po' di tin Dove sta il tin? 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 Solo uno ce l'ho? No, non posso No, raga, un solo tin Cazzo Questo è un problema Mi serve altro tin E in bocca mi invento L'unica soluzione che mi è venuta in mente adesso, ragazzi È farmare altro tin Non c'è altro da fare Un polverizzo, un po' di cobblestone Faccio la graver La shift E via Per forza, so costretto Mi serve graver E tanta pure Vabbè, raga, nel frattempo Io mi sono fatto un piccone normale Perché non posso Aspettare il tin Che se faccio Io ho 8000 anni Non so che problemi c'ha E vabbè, raga Finché non metto gli speed upgrade E le cacadevare Ok, piccone Piccone del cazzo Non lo so rifatto Che ne so, ragazzi Me lo so perso Comunque vorrei far notare Il mio flint mattock Che ha 10 di attack damage Ma quelli sono Molti dettagli B-shot agli enderman Ovviamente se mi entra un critico E gli zombie Non ve lo dico Guardate, un'esplosione di morte B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b Sto comodo alla fine, eh Ho fatto bene a tenermeli Assolutamente E sì, sto cuocendo patate, ragazzi Solo questo c'ho da mangiare Almeno finché non amplio la fattoria Produce bene, eh Produce bene Però È scomodo Perché devo craftare tutte le cose Eccetera, eccetera, eccetera Oddio, raga Cominciano a piovere di enderman Sono impazziti Follia, enderman Lol Perché odiano l'acqua, raga Che figata Muori Non riesco a colpirli Sono troppo veloci Oh, questi stanno al coperto Non ci do questi Muori, 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 muori Vabbè, ma se scappi Non riesco a ucciderti Devi stare fermo Vuoro qui, vuoro qui Bu Madonna, quanto è forte sto matto Non c'ha senso, raga Sì, oh, che portello Nel frattempo, ragazzi Io off camera Mi sto creando una nuova zona Per mettere crucible Eh sì, così La mettiamo anche a altezza della tinker In modo che la lava Posso non solo storaggiarla Ma anche utilizzarla Per la fornace Magari sì Quando farò più fornaci Sposterò tutto Non lo so Quale ci devo pensare, in effetti Perché una sola fornace Non mi basterà neanche per il cazzo Se ne dovrò fare tante Vedremo poi, vedremo Allora, dato che la quest Storage Wars Se non sbaglio Dove sta? Vieni qui La quest Storage Wars Mi chiede di fare il portable fluid Il drum Il questo che cacchio Non lo so cosa è Facciamoli Portable fluid è una stupidaggine, ragazzi Basta fare un portable tank Lo utilizzeremo per portare in giro la lava Che dobbiamo utilizzare per fare la cosa Quindi basta un pezzo di rame E quattro pezzi di vetro Proprio una stupidaggine Control per prendere un pezzo solo E il vetro me l'hanno fottuto Dove cazzo sta il mio vetro? Vetro 1, 2, 3, 4 Ok Basta prendere una crafting table Quattro vetro E un tank è fatto Facilissimo Poi ci serve Anche il drum Questo è dell'extra utilities, ragazzi E ci serve un po' di ferro Manco tanto Basta uno stack Ma nemmeno Mi pare che Che cacchio ho fatto? Fermo Non toccare Ok, penso che Mezzo stack basti Ora non so esattamente quanto ce ne vuole Bastano due pressure plate Un cauldron Non cauldron Quello per il server È cauldron E voilà Ne serve Nemmeno se 17 Quanto è? Non so Una roba del genere Tipo 17 Ecco qui il nostro drum E questo drum Si riempirà adesso di lava Però ci vuole prima Il crucible messo di là Prendiamoli Allora In base alla temperatura Che mettiamo sotto al crucible Cambia quanto veloce Scioglie la cobblestone Quindi se noi prendiamo Tanto netherrack Che il netherrack Si fa Ricordate ragazzi Sul barrel Mettendo dentro Il coso La lava Con la redstone Anzi Adesso che me lo dite Ne faccio altri Perché ci serve Altra netherrack Dove stanno i secchi Un secchio di lava Un secchio di witch water Ok Basta prendere un bar Che non si è esposto All'acqua Ovviamente ragazzi Perché se lo mettete Sotto l'acqua Si va a riempire E non potete riempirlo Di lava Lo riempiamo di lava Ci mettiamo un pezzo Di redstone Che vado prontamente A prendere Uno due tre Perché me ne servono tre E Voila Netherrack Allora ci serve Quattro netherrack Quindi devi fare questo procedimento Altre volte Solo che non ho più lava Sono un coglione Ho smontato i crucible Mi devo impiccare Sono un deficiente Vabbè Xander Sei la vergogna di minecraft Fai schifo Non ti parlo più Ok ragazzi Andiamo a mettere due pezzi Di netherrack Per poter scaldare I nostri crucible Che metto allineati Anche se fosse No uno due Allora qui c'è il tubo Che esce Ma nel drum Il drum è perfetto Qui E uno qui E uno qui Allora adesso io qui sopra Basta che crea Una fonte di calore Tipo fuoco Flint and seal Flint and seal Se crafta normale Spero vero Vero Non è che c'è un craft Impossibile Che io non ho No no Ditemi che craft è normale Sì Ok craft è normale Ho strippato ragazzi Mi sarei aspettato qualcosa di strano E allucinante A quanto pare invece no I craft sono tutti normali Lo sapete che ha tolto La mind tweaker Non usa più I craft immodificati Non so perché Avrò avuto qualche report Da qualche modo E ho detto Basta modificare le mie recipes È una stronza E quindi non le modifica più Ok ragazzi Sopra il netherrack Come sapete Il fuoco è permanente Quindi continuerà a bruciare All'infinito Come uno stronto E io posso mettere Il mio crucible Da da E notate un po' Che c'è scritto sopra Melting speed 3.0 Per Guardate i video vecchi ragazzi Ricordate i vecchi video E guardate la mente speed Da quanto stava È aumentata A 3 Prima era solo uno Eh già ragazzi Grazie al fatto che ho messo La fiamma sopra Una netherrack E cuoce molto più veloce Figata eh Mi faccio un sacco Questa cosa Veramente Veramente Figata Ok Adesso devo aggiungere la cobblestone E farla sciogliere Molto rapidamente E fare altra netherrack Eh sì Per forza Comunque Questo fatto che prendo la cobblestone Da qua dentro Veramente veramente oppi sta cosa Lasciate perdere Non ho senso proprio Ma se aumentassi crucible Mmm 3 mesi verranno un po' pochi Arriviamo tipo a 10 20, 30, 40, 50 Vabbè sì ragazzi Poi i mega impianti Li facciamo dopo Adesso c'è solo bisogno Di fare le prime quest Poi quando c'errò l'applet C'errò spazio Insomma con calma Facciamo tutto Facciamo tutto Facciamo tutto Ah Lo sapete che voglio fare? Voglio fare l'item Tutti i fluiduct Lo direte perché? Perché a parte il fatto Che c'è una quest Che me li richiede Che schifo A parte il fatto Che c'è una Bello questo Una quest che me li richiede E in più ci serviranno Per trasportare gli oggetti Insomma Sta qui in assembly line ragazzi Eccola qui Thermal transport Che ci fa fare Il temperate fluiduct E l'item duct Perché il temperate? Perché è una merda Vabbè ragazzi Allora sono molto facili da craftare Basta un po' di rame E cacchio Se non mi sbaglio ragazzi Ci vuole anche del tin Tuttenazio Tuttenazio Deve essere uscito per forza Del tin però Eccolo qua Broken tin Vediamo se ne ho altro Qui dentro da unire Tin ore Perfetto Ok questo lo mettiamo Tutto nella tin Tutto cazzo Vai Mi serve un lingotto di tin Quindi tutto a fondere Ma non fondi? Vabbè basta che lo sfascio Col buon martello Che cazzo Me ne foda me Ok raga Mettiamo a sciogliere il nostro tin E verrà probabilmente Più di lingotte E forse potrei fare anche Lenderium Perché uscirà parecchio Perché i lingotti Usciranno Allora Come dicevo Basta prendere copper E led mi pare No al contrario Led dentro il copper Copper dentro il led Sì E otteniamo i nostri Fluiduct temperate Che però Non mi servono Perché per portare la lava Ci servono i I Ardened Come si chiamano Che stanno da ste parti Ecco qua Gli Ardened Che si fanno Però con l'invar Io l'invar ce l'ho Ta da Ok quindi prendiamo l'invar E ci mettiamo al centro Il copper No il led Ok mi sbaglio sempre Tra copper e led La casa è un po' babbo Ma ce la posso fare Ok ragazzi Quindi ci serve anche l'item Duct Devo aspettare il tin Pezzo di zero Lurito tin Sbrigati usci dalla dentro Prima che ti faccio Esci soronzo Esci da qui Ah Non c'è il time Vabbè sì Effettivamente senza questo Non uscirà mai Esci soronzo Eccolo il nostro tin ragazzi Che ci servirà per completare la quest Teening hot Bello 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 Quindi tin Con il centro il copper No il led Mi sbaglio sempre Copper e led Oddio basta Basta Ho fatto un light in loot Ho fatto gg Questo è completo No Cos'è Ah il fil Ah servo Filter e retriever Tutte e tre Mortacci Non sono difficili craft ragazzi Guardate Servo Stupidaggini Filter Stupidaggini Retriever E io fender No Enderio nugget Cazzo Eh sì Queste vanno fatte lì dentro Avete visto perché Bella Che bella Allora Dato che io voglio fare l'enderium Diamoci dentro ragazzi Allora Butto dentro 4 tin Perché lo prende solo 2 alla volta Ok Quindi butto dentro anche 4 shiny Tanto per par condicio Poi se avanzano non è un problema E poi strariempio di enderpearl Proprio random schiaffate dentro tutte quelle che posso Poi se ci sono problemi Oddio aspetta no Facciamo un po' di cose precise no Allora di ogni enderpearl ne esce 250 Giusto? Non vorrei sbagliarmi Dove sta la fornace? Davide Eccolo No non è quella Ho io con la tinker La tinker 250 Ok quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Basta Ne bastano 8 8 dovrebbero uscire ben 2 lingotti Dovrebbe essere perfetto così ragazzi Vediamo adesso cosa risulterà Quando si mischierà tutto insieme Nel frattempo ragazzi Sto prendendo la lava Che ho lasciato a fare Ricordate? E ci sto facendo Altranei del rack Mi serve un'altra sicchiata Oh sta pioggia ha rotto il cazzo però eh Non può più avere 24 su 24 E adesso serve Allora O te dà una carmata O te dà una carmata Decidi Ok prendiamo l'ultima lava Perfetto ragazzi Ecco qui i nostri crochet ball Che vanno a super velocità Figata E adesso dovrei collegare tutto Con gli Ardened Fluiduct opache 1, 2, 3, 4 Scende giù Scende giù E va all'interno del drum E qui in questo caso Andremo a mettere in riservo Che stiamo per craftare Però ovviamente ci servono i materiali Servo, servo, servo Ragazzi Guardate qui Resonant Ender Ci siamo ragazzi Quindi il nostro Resonant Ender Ora lo utilizzeremo per fare La testa del piccone Di Enderium Basta mettere la testa Del piccacse E non Vabbè Ma appena scende questo Uscirà l'altro No Niente proprio Enderium Non cola? Perché non posso fare La testa di Enderium? No c'è qualcosa che non va qui No raga Molta è in Enderium Dai dov'è la difficoltà Scusami Ma questo è Resonant Ender E scusa E lo Shiny e il Tin Dove stanno? Scusami No raga Mi sei buggata la fornace Resonant Ender So le Ender Perché ho sciolto E il Tin E lo Shiny No raga Io ce l'ho messi dentro No no Qui c'è qualcosa che non va Raga Qui c'è qualcosa Che non va Io ho messo il Tin All'interno E il Tin è sparito È sparito vero? Scusami Resonant Ender Se io sciolgo un Ender Per Ottengo No no C'è qualcosa che non va Resonant Ender E il Tin che fino ha fatto Scusatemi eh Dov'è il mio Tin? L'ho messo eh L'ho messo all'interno No questo si chiama bug Questo a cazzo mia si chiama bug Dov'è il mio Tin? Datemelo Datemelo Adesso C'è sostanza Tin E voi me lo togliete pure? Pure? Oltretutto? Io veramente non c'ho parole Su questo schifo Veramente non ho parole Vabbè ragazzi Io cercherò di capire Cosa è successo al mio Tin Adesso ne farò altro Perché devo farmarlo Niente non è uscito E vi saluto Per questo video è tutto Ci vediamo nel prossimo Dove avrò sicuramente capito Spero che cazzo è successo al mio Tin Ragazzi Io vi saluto Ci vediamo al prossimo video Bella Raga Raga Il Silver Manca il Silver Il Tin è sparito Buggato Perché mancava il Silver Bel Bel bug No 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 Bel bug No no Bel bug Beh bella la Tinker Belle le mod Belle le mod Belle le mod Di merda Belle GG Well player Grazie a tutti